Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Ragazzi, oggi andiamo finalmente a fare la recensione di Honor View 20 Ce l'ho ormai da un mese, sto per rimandarlo indietro Tra qualche giorno dovrebbero venire a prenderselo e dire che è arrivato il momento di parlarvene Beh, devo dire che mi sono trovato benissimo Ma direi di non perderci assolutamente in chiacchiere Andarlo a vedere subito dopo la sigla Per quanto riguarda packaging e tutto il resto Beh, vi ho pubblicato un video qualche settimana fa Vi lascio il link qui in alto nelle schede Dove vi mostro l'unboxing e le prime impressioni di Honor View 20 Quindi prima di guardare questo video, se non l'avete ancora fatto Andatelo a guardare perché è un video veramente importantissimo Direi di partire dall'aspetto più importante che ha curato Honor Ovvero il design Beh, sulla parte posteriore abbiamo tutto questo stile Veramente stupendo Che ragazzi ci accompagna per tutto lo smartphone Tutte queste grafiche, queste cose La fotocamera piazzata in quel modo Veramente mi piace tantissimo Ho anche il blocchetto di doppio foro per la fotocamera In modo da avere una fotocamera un po' più grand'angolo E l'altra leggermente più piccola come teleobiettivo Che ragazzi mi piace veramente tantissimo Inoltre è stata la prima casa, ovvero quella più blasonata Che ha utilizzato il foro sul display E devo dire che è stata una tecnologia che per quanto mi riguarda mi piace tantissimo Tant'è che il Samsung Galaxy S10 con questa tecnologia mi piace veramente moltissimo Abbiamo parlato del foro sul display che ingloba la fotocamera E devo dirvi che entrambe, sia quella anteriore che posteriore Fanno delle fotografie veramente stupende Vi lascio qui qualche immagine passare di fotografie scattate direttamente Con Honor View 20 che ragazzi sono veramente stupende Mi piacciono tantissimo, sono particolarmente curate Devo dire che però i colori sono veramente nitidi, perfetti Mi piacciono tantissimo, sono graduati non troppo alti tipo Samsung E non troppo bassi tipo Apple Quindi sono il giusto compromesso Mi piacciono veramente tanto Spero che piacciono anche a voi E fatemelo sapere qui sotto nei commenti Parliamo adesso delle tecnologie adottate su Honor View 20 Stiamo vedendo le case più blasonate che inglobano il sensore di impronte digitali sotto lo schermo E devo dire che è una soluzione che è veramente molto molto figa Ma Honor View 20 per risparmiare sul prezzo Ha deciso di adottare un ottimo scanner facciale Che veramente ragazzi ci sblocca il telefono da distanze incredibili Nessuno smartphone ho mai visto che riesce a sbloccare il telefono con delle distanze così ampie E inoltre abbiamo un sensore di impronte digitali posto sul retro Che è veramente molto veloce anch'esso Non ci sono nessune gesture per poter aprire cose particolari Ma basta appoggiare il dito e il display si sblocca in maniera super rapida Per quanto riguarda il foro sul display dal punto di vista estetico e di grafica Per quanto riguarda quello che andiamo a visualizzare sul display Beh non ci dà assolutamente problemi Le applicazioni generiche Quelle che non hanno ancora aggiornato per questa tipologia di smartphone Si croppano leggermente sulla parte alta E beh non avremo assolutamente problemi Inoltre abbiamo alcune applicazioni Come ad esempio l'applicazione telefono integrata nello smartphone Che funziona veramente alla grande Ci va a ritagliare tutto un cerchietto intorno all'area della fotocamera E devo dire che funziona veramente alla grande Ed è veramente super figo Spero che più avanti molte altre applicazioni verranno aggiornate Per usufruire maggiormente di questo foro sul display Abbiamo tirato in ballo il display E quindi direi di andarne a parlare immediatamente Beh abbiamo un 6,4 pollici Abbondante per l'utilizzo giornaliero E inoltre abbiamo una risoluzione di 1080x2310 se non erro Questo è un display veramente stupendo Che ragazzi mi sta dando veramente tantissime soddisfazioni Mi trovo benissimo alla luce del sole si vede veramente alla grande Come avrete visto nel video scorso L'ho utilizzato anche per fare da display al mio DJI Mavic Air nuovo Che ragazzi funziona veramente alla grande Quindi sotto al sole si vede benissimo E inoltre i colori sono veramente vividi Molto nitidi e quindi veramente perfetti Per quanto riguarda la batteria Beh ragazzi dura abbastanza Sono riuscito a fare tutta una mia giornata di utilizzo universitaria Ed è durato veramente a sufficienza Beh vi lascio qui un grafico Per quanto riguarda l'utilizzo di questa batteria Il grafico preso direttamente dallo smartphone E devo dire che non ho trovato particolari problemi Nell'utilizzo giornaliero Anche per quanto riguarda la potenza erogata direttamente dal processore Bene ragazzi il video sta per finire qui Ma prima di chiudere devo mostrarvi due accessori Uno dato direttamente in dotazione all'interno della scatola Uno al momento acquistabile A parte che a me mi è stato regalato direttamente Durante l'acquisto per una promozione in atto Ovvero la cover di Honor View 20 in pelle Beh la prima quella data in dotazione E quella in silicone che dopo un mese di utilizzo Non si è ingiallita assolutamente Non ci sono problemi sul cover Né graffi né niente Sicuramente a lungo andare Dopo un annetto si andrà ad ingiallire leggermente Ma per il momento è ancora perfettamente funzionante Inoltre vi ricordo che sullo smartphone Ci verrà data direttamente una pellicola Di protezione per il display Veramente ad hoc e perfetta Inoltre parliamo della seconda cover Ovvero quella che a me mi è stata regalata Ma che voi potrete acquistare tramite il link Qui sotto in descrizione Ovvero quella in pelle direttamente di Honor Con una tasca per contenere una carta Beh ragazzi è veramente bellissima Non si è graffiata minimamente durante l'utilizzo È veramente super funzionale A parte per quanto riguarda un po' L'accumulo di polvere che si crea lungo il bordo Perché non è chiusa perfettamente Ma devo dire che mi sono trovato veramente benissimo È molto molto bella E soprattutto molto elegante Bene ragazzi il video finisce qui Spero che questo vi sia piaciuto Vi raccomando qui sotto in descrizione Trovate tutti i link Per acquistare questo smartphone E inserire Amazon nei vostri preferiti In modo da supportarmi Per ogni vostro acquisto Senza nessun aumento di prezzo Inoltre vi ricordo che sempre qui sotto in descrizione Trovate il link per farvi Amazon Prime La prova gratuita di 30 giorni Che è veramente un plus Per tutti gli acquisti futuri Che andrete a fare Io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto Dovete assolutamente iscrivervi al canale Lasciare un bel like Seguirmi su tutte le mie pagine social Io vi saluto però e vi dico che noi ci vediamo Domenica prossima Sempre qui sul mio canale YouTube Ciao!